ciao a tutti abbiamo un problema ricorrente con l'istrice quest'anno è tornato ha già fatto fuori uno due tre quattro cinque cinque piante di patate ieri sera gli ho lasciato due patate fuori vedo che ha gradito anche quelle adesso messi pali proveremo con la rete la rete metallica tamponare il problema poche ore di lavoro ho preparato la recensione ho usato la rete cosiddetta per polli una rete molto semplice zincata in facile applicazione si piega velocemente si piega a mano adesso infilerò nel terreno questi picchetti di ferro due distanza di 70 centimetri uno dall'altro se dovete farlo anche voi ricordatevi di lasciare un'apertura perché qualcuno non l'ha lasciata ha dovuto smontare tutto io ho preparato questa si apre e sono fermato con del fil di ferro il lavoro è terminato adesso vediamo se nei prossimi giorni siamo riusciti a debellare l'istrice magari cambia campo magari va dal vicino vi farò sapere poi come va è passato qualche giorno sono venuto a controllare la tenuta della rete della recensione delle patate avevo messo delle patate come esca per vedere se riusciva a entrare l'istrice patate sono ancora qui i fori non sono aumentati dovrebbe tenere adesso vediamo nei prossimi giorni come va e poi eventualmente apportiamo delle modifiche intanto vi ringrazio per aver visto questo video se vi è stato utile me lo volete scrivere se avete altri consigli sono ben accetti buona giornata a tutti